Domus Medica è una casa di cura privata nella Repubblica di San Marino. Nel 1992 medici provenienti da ospedali e centri universitari garantiscono al paziente le migliori cure possibili utilizzando tecnologie, strutture diagnostiche e terapeutiche d'avanguardia. Domus Medica tutela la salute e il benessere del paziente, chirurgia estetica, chirurgia generale, ortopedia, oculistica, camera iperbarica, radiodiagnostica, medicina subacquea, traumatologia. Tutto questo al servizio della salute. Tutto questo è Domus Medica. Domus Medica